Spazio dedicato quest'oggi al calcio, più precisamente calcio di seconda categoria, girone di, e parleremo della Terenziana di Staranzano e lo faremo con il presidente Mauro Regolin. Allora, presidente, innanzitutto complimenti per la vostra promozione, è un campionato che vi ha visto giungere alla conclusione al secondo posto. Al inizio stagione vi aspettavate un risultato di questo tipo? Lo volevamo, lo cercavamo, anche devo dire che ho qualche pretese in più. Va bene, secondo posto ci accontentiamo, abbiamo trovato davanti di noi uno squadrone, inutile negarlo, anche se contro di loro le due partite loro hanno sofferto di più di noi. Va bene, ma è andata così, abbiamo sbagliato alcune partite all'inizio, con dei pareggi, però alla fine tutto quanto il girone di ritorno ci siamo dati da fare e abbiamo raggiunto questo obiettivo. Un obiettivo che ci eravamo posto quando abbiamo preso in mano questa società, anche cambiando nome da Staranzanese a Staranzano a Terenziana a Staranzano, che era una società storica. Sì, l'obiettivo era questo, in tre anni ce l'abbiamo fatta anche noi. Adesso guardiamo un po' avanti, vediamo ecco. Qual è stato il momento della stagione che avete capito che si poteva lottare per i vertici, fare il salto di categoria? Proprio, adesso mi ricordo il calendario, la seconda, terza partita proprio contro il Monfalcone. Noi sapevamo che loro erano attrezzati, a parte come società che venivano giù dalla Serie D, con tutto un staff tecnico molto importante, con giocatori importanti. Sì, quando abbiamo giocato con loro in casa, vincevamo 1-0 fino al 60, a tempo scaduto sul coro ci hanno pareggiato per una distrazione nostra, arriviamo capito che avevamo queste possibilità. Certo, una partita non si può dire, però io me la sentivo, ecco. Abbiamo lottato e poi il girone di ritorno è stato eccezionale, eccezionale e siamo giunti, ecco sì, a raggiungere la prima categoria che ci avevamo prefissato. Capitolo settore giovanile, anche lì avete ricostruito, e diciamo bene, no? Sì, sembrerebbe di sì. Abbiamo giocato bene con il settore giovanile, abbiamo diversi ragazzi, siamo cresciuti di numero, avevamo trovato una situazione un po' pesante, cioè con pochi numeri di ragazzi. Adesso cerchiamo, stiamo già cercando di attrezzarsi per mantenere però, perché fino adesso è stato quasi facile, diciamo, ma adesso mantenere è difficile un certo livello. Difatti ci stiamo attrezzando sia con allenatori, sia abbiamo il direttore sportivo del settore giovanile, che per motivi Santa Fornero lo ha castigato, dovrà lasciare questo incarico che aveva fino adesso, però abbiamo già in mente chi ci verrà a fare direttore sportivo del settore giovanile. Parliamo, mi ha dato il permesso di parlare, di dire il suo nome, anche dovrebbe venire Fabio Grillo. Adesso l'attuale allenatore Saganziano, viene da noi, è di Staranzano, ci darà una mano per ricostruire, per mantenere, perché vogliamo raggiungere qualche regionale. Qui insomma hai dato già una notizia in anticipazione per il prossimo anno, per la prossima stagione. Sì. State già cominciando a preparare così questa nuova serie, questa nuova categoria? Beh, intanto pensiamo di confermare tutto il gruppo esistente, e sembrerebbe che tutti i ragazzi vogliono restare. Poi di che c'è il mercato di dicembre, se qualcuno dice qua gioco poco, voglio andare in una squadra più giù, o anche più su, va bene, insomma non saremo noi a fermarli dopo che ci hanno aiutato tutti quanto questo gruppo, un gruppo favoloso. Faremo uno o due, anche noi stiamo già vedendo come uno o due inserimenti, quello che a fine settimana ci preme però, più di tutto, è la riconferma dell'allenatore di Gregorati, che si è preso una settimana di tempo, che a fine settimana ci dirà l'ok definitivo, e noi speriamo che sia così. Un'ultima domanda che volevo porti, organizzerete dal 24 al 27 maggio a Sparagi in campo, parliamo un po' di questo evento. Sì, grazie, grazie per la domanda. Allora, niente, ci siamo come tutte le società, delle tantiste che ovviamente noi dobbiamo trovare fuori, fare qualcosa per avere qualche soldino poi da poter spentere. Allora, ci siamo inventati questa nuova manifestazione dove ci saranno diverse gare, inaugureremo giovedì con una serata con Zippo, DJ Zippo, penso che sia conosciuto qua quasi per tutto. Poi dal venerdì avremo sia dei tornei amatoriali, femminili sabato sera, sempre a 5 parliamo, in campo ovviamente, erboso, ma a 5. e chiudiamo la domenica con un torneo di esordienti, con sei squadre, giocheremo su due campi, anche quello degli amatori, poi la finale. E lì avremo questa cucina, abbiamo preso un capannone, cucina che sarà tutti i primi ai barri di Sparagi e poi avremo la solita griglia a legna, che offriremo a chi vorrà venire a darne il proprio contributo. Quindi ricordiamo l'appuntamento dal 24 al 27 mai. Al 27, comprendo.